Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video un po' diverso dal solito perché invece di parlare di Bitcoin, invece di andare a fare analisi su Bitcoin oggi facciamo un'analisi su Ethereum ragazzi perché Ethereum è una cripto che nei prossimi mesi sarà una cripto chiave importantissima per comprendere due cose fondamentali uno, se la questione è legata alla forza relativa del mercato cripto contro il re delle criptovalute quindi Bitcoin e quindi la dominance di Bitcoin potrà ancora essere a favore delle criptovalute e due, cosa ancora più importante, se arriva questo crash del mercato delle criptovalute in generale che impatto avrà sulle altcoin? quindi Ethereum come paro delle altcoin, Ethereum come anche precursore di quello che potrebbe essere un attacco magari a stablecoin o tutto quello che riguarda il mondo della stablecoin ragazzi sulle quali faremo anche probabilmente un video macro quindi un video di analisi e di riflessione dal punto di vista macro che sto pensando e preparando da un po' ragazzi per riflettere un po' sul mondo stablecoin proprio nell'ambito delle criptovalute quindi oggi ragazzi proprio andiamo a vedere Ethereum o analizzare un po' quelle che sono tutte le situazioni tutti i grafici di Ethereum o di natura medio-lunga quindi quelle che possono darci un'indicazione su qualche difettuccio che magari in questo momento non si vede nelle news, non si vede nei dati un po' come è stata la questione Luna e che però i grafici già magari ce lo anticipano proprio appunto come era la questione Luna che aveva fatto con le inversioni di trend nessuno poteva immaginare poi il crash definitivo ma i prezzi ovviamente già avevano iniziato la loro spirale al ribasso quindi Ethereum contro BTC, Ethereum da solo e i cicli di Ethereum e poi delle riflessioni importantissime sul ruolo di Ethereum anche nell'ecosistema cripto in generale ragazzi perché un crash del chain Ethereum in generale oppure più che crash io direi una riduzione di fiducia nel sistema degli smart contract di Ethereum causerebbe un crash generalizzato anche su tutto il resto del settore e quindi di conseguenza ragazzi forse il più brutto per market poi sarebbe nel settore di criptovaluta allora andiamo a cercare di comprendere questa roba qui l'idea di questo video mi è venuta da questo articolo che ho trovato oggi su Cointelegraph ragazzi che è un articolo abbastanza semplice parla del fatto che probabilmente da un punto di vista di analisi tecnica si sta andando a creare una bear trap per quanto riguarda gli orsi quindi gli shorter quelli che fanno short selling su Ethereum e che probabilmente il merge probabilmente il merge di Ethereum darà spazio addirittura di portare TH come price intorno ai 4000 dollari entro la fine del 2022 quindi una ripresa e un rattoppio dagli attuali prezzi perché il tema degli attuali prezzi è circa 1900 dollari allora intanto volevo ragionare su questa tipologia di video e capire un po' su cosa scusate l'articolo e capire un po' su cosa si basa in sostanza è semplicemente l'analisi di un canale di ETH che adesso andremo a vedere ha una valenza tanto e non quanto ma poi soprattutto mette il punto di riferimento sulla problematica relativa al merge perché ragazzi il merge di Ethereum che è sostanzialmente molto importante per scongiolare la cosiddetta spirale della morte cioè la carenza della liquidità della blockchain di Ethereum e quindi della possibilità di avere una grossa diciamo circolazione di capitali ecco chiamiamola così perché la circolazione di capitali è importantissima soprattutto per tutti gli ecosistemi che si vanno a creare proprio su una chain come quella di Ethereum in quanto hanno bisogno per crescere di vedere tanti capitali circolanti quindi l'articolo parla anche di queste cose e il problema delle gas feed di ETH è il fatto che in sostanza ETH abbia dovuto bloccare un po' tutte quelle transazioni anche e tutta quella euforia che girava sulla sua chain proprio a causa di queste transazioni estremamente costose quindi tutti quelli che erano magari i servizi che sarebbero potuti nascere su ETH sono stati sguicciate l'A2 a BSC ragazzi io vi ricordo che BSC nasce più o meno è più di un anno che esiste BSC proprio per sopperire a questo problema quindi la Binance Smart Chain e insomma è tutta una serie di ecosistemi che in sostanza sono venuti meno alla chain di ETH che non si sono andati a creare sull'altra chain anche vero che se andiamo a verificare la questione legata alla liquidità la chain Ethereum è la più liquida è quella che crea più earnings in generale più fee di scambio ma perché anche costa troppo diciamo scambiare insomma e utilizzarla in sostanza il merger Ethereum è fondamentale ragazzi e deve avvenire in tempi brevi secondo questo articolo perché perché se non avviene in tempi brevi può causare la spirale della morte proprio perché l'assenza della liquidità presente che non riesce a circolare in pratica causerebbe poi un concetto che si chiama appunto la spirale della morte poi andatevi a leggere l'articolo di Contelegraph se volete approfondire allora vero non vero questo tipo di logica un po' come sempre questo articolo di giornale quindi insomma estremamente superficiale nei concetti allora partiamo dal primo punto la questione legata alla bear trap di Ethereum Ethereum sta creando una bear trap in questo momento e quindi dopo agosto che è nuova data insomma presunta di questo merge dovrebbe avvenire potrebbe innescarsi una spirale crescente andiamolo a vedere proprio sui grafici analizzando quello che è il grafico ETH BTC intanto vi faccio vedere la ciclica di ETH BTC che non guardiamo in maniera approfondita già da un po' questo è tutta la struttura di Ethereum contro dollaro di Bitfinex in questo caso ragazzi a time frame 1D dall'inizio della nuova fase del bull run dei mercati delle criptovalute abbiamo strutturato anche su Ethereum quello che è un ciclo di natura annuale a 450 giorni e poi una serie di cicli che vediamo si muovono tra i 190 e i 140 cioè dei semestrali barra quadrimestrali naturali quindi Ethereum si muove con una struttura ciclica estremamente più precisa rispetto a Bitcoin e anche meno rumorosa da un punto di vista proprio di oscillazione di swing quindi non è anomalo che Ethereum vada a fare per esempio dei movimenti più puliti rispetto a BTC da un punto di vista ciclico strutturalmente poi si vede anche ragazzi come in teoria gli annuali di Ethereum sono un po' lunghetti perché se facciamo ricadere la chiusura del ciclo annuale di Ethereum a luglio come a quella di Bitcoin è addirittura a 500 giorni quindi io oserei dire due annuali corti messi insieme perché in pratica è veramente tanto comunque in linea di massima se invece lo facciamo cadere sulla sua shadow perché qui stiamo guardando solo le close ma se io vi metto le shadow la chiusura tecnicamente dovrebbe essere stata qualche un mesetto prima cioè intorno al 22 di giugno quando del 2021 quando ha toccato 1700 perché invece 1711 contro 1721 del 20 luglio 2021 ovviamente la differenza è praticamente insignificante per qualsiasi tipo di analisi ragazzi quindi sostanzialmente all'interno di questa fascia è stato chiuso il ciclo annuale di Ethereum al momento io lo faccio ricadere con la struttura di luglio giusto per avere questi cicli sotto cicli abbastanza precisi dall'inizio del nuovo ciclo annuale poi è andato ad invertirsi un po' il movimento cioè è andato ad ampliarsi quindi il primo movimento non è stato più di 4 mesi ma di 6 mesi abbondanti con la chiusura del ciclo semestrale intorno al 23 di gennaio un po' come tutte le altre criptovalute e poi da qui si sta andando a sviluppare probabilmente in forma ternaria un altro ciclo semestrale che dovrebbe andare più o meno a chiudersi intorno ad agosto proprio 2022 che dovrebbe essere la data di questo merge ragazzi quindi in teoria dovremmo assistere ad una fase di ripresa tra poco anche di Ethereum e poi fase finale di ribasso proprio nel periodo del merge che non sia appunto un altro fake news questa questione del merge che il mercato prenderà male magari andando a fare l'ultimo swing ribassista proprio per la regina delle criptovalute perché in pratica questa struttura ciclica del semestrale di Ethereum sembrerebbe divisa in sostanza a tre cicli più o meno strutturati in questo modo quindi in pratica una struttura ternaria dove di solito i primi e gli ultimi sono i cicli un po' più corti questo sembrerebbe averlo fatto intorno ai 52 giorni adesso sta strutturando un ciclo che potrebbe aver chiuso a maggio di circa se questo dovrebbe essere 70 68 più o meno in questa zona ragazzi quindi sta chiudendo in questa zona qui e poi dovrebbe andare a crearci l'ultimo ciclo in pratica ragazzi anche Ethereum come BTC sancisce che è questa bear trap in realtà non esiste più di tanto cioè non è una bear trap è proprio un trend discendente quindi la trappola per orsi in sostanza dovrebbe essere fatta in questo modo ora ve la faccio capire quindi se la fa la fa in questo modo quindi questa è una struttura così dopodiché dovrebbe andare a chiudere se la fa la bear trap la deve fare qui perché dovrebbe andare a breccare questi minimi del ciclo annuale che addirittura ancora non sono stati rotti da parte di Ethereum a differenza di Bitcoin questo sancisce anche come Ethereum ha conservato molta più stabilità rispetto al re delle criptovalute nonostante ci sia questo problema del merge ma forse anche proprio perché c'è molta attesa per il merge di Ethereum perché a quel punto potremmo anche ragionare sul fatto che molti layer molte chain che sono nate per superire i problemi di ETH non avrebbero poi tanto modo di esistere o tanto motivo di esistere perché in sostanza la liquidità si sposterebbe tutta su la chain di Ethereum e a quel punto non ci sarebbe più il problema delle fee vediamo se va se non funziona se funziona come vanno a integrare queste cose ovviamente è tutta una scommezza in questo caso perciò bisognerebbe andare a vedere magari alcuni chain resisteranno altre no però in sostanza la struttura di Ethereum è stata più stabile rispetto a quella di Bitcoin negli ultimi mesi perché Bitcoin ha già breccato il minimo del ciclo annuale è anche vero che Ethereum è vicinissimo non c'è tutta questa differenza adesso ecco ragazzi con Bitcoin però un po' dovendolo dire diciamo che oggettivamente è leggermente migliore come atteggiamento guardiamolo anche da un punto di vista di market cap perché da un punto di vista di market cap noi stiamo introducendo in pratica non soltanto l'analisi dei prezzi ma anche del tasso di inflazione della cripto perché in questo caso sia Ethereum che Bitcoin è vero che hanno un'oscitazione di prezzo ma è anche vero che si stampano nuovi Ethereum nuovi Bitcoin ogni giorno quindi comunque la market cap ci dà anche un atteggiamento diciamo ci dà delle informazioni che sono anche abbastanza interessanti da andare a guardare ma in pratica essendo che ETH ha ridotto tantissimo il suo tasso di inflazione precedente guardate un po' com'è la situazione in pratica è quasi identica vi ho messo il time frame a settimanale se vi metto quello giornaliero lo vedete è praticamente similare alla questione del prezzo quasi non c'è nessuna differenza segno che in pratica il tasso di inflazione di Ethereum è stato realmente drasticamente ridotto proprio negli ultimi anni nell'ultimo anno e mezzo proprio grazie a questa nuova struttura di fondamentali che ha la regina delle cripto rispetto al passato ora l'hubber trap se dovesse andare a verificarsi deve andarci a breccare i 1700 punti dollari scusate 1700 dollari down per Ethereum se però venissero fatti prima dell'arrivo di questo periodo di agosto secondo me non è un hover trap ma è semplicemente un trend che avrebbe buone probabilità di crashare anche in maniera consistente invece un'impennata proprio come quella che teoricamente ci stiamo aspettando come ripresa quindi il prossimo ciclo da 2-3 mesi che dovrebbe avvenire sui mercati entro brevissimo ma con grande difficoltà ragazzi perché abbiamo visto come anche oggi Bitcoin sta fallendo questo tentativo nuovamente di recuperare i 30k anche aiutato da Nasdaq perché in questa fase Nasdaq è stato anche fortemente positivo quindi in questo momento Ethereum ragazzi non sembra essere in grado magari di riprendere una fase di alzista però se ci riescono devono dare immediatamente risposta quindi siamo già al di là veramente dei tempi proprio è questione di 1-2 giorni non è più possibile continuare solitamente quando i mercati sono lenti nelle fasi di ripresa e danno tanto spazio a chi è fuori magari di rientrare e posizionarsi non va molto bene solitamente queste cose qui non succedono quando i mercati fanno un minimo ripartono subito a razzo se danno troppo tempo alle persone di riflettere se entrare o meno quasi sempre è una trappola va bene allora questo va valutata insomma questa cosa perché dovesse essere una barra di congestione da qui e poi iniziare a scendere significherebbe scendere per 70 giorni 60 giorni di fila e tra le altre cose anche qui come nel caso di BTC non abbiamo sostanziali ed importanti livelli di supporto proprio perché la precedente Burran ha dettato legge sulla questione legata all'impulso rialzista quindi in pratica non ha creato fasce di supporto rilevanti ne abbiamo qualcuna che ve le sto indicando come fasce di supporto non singoli livelli però vedete che la distanza in termini percentuali è molto ampia quindi la perdita di 1700 dollari per Ethereum porta poi magari a un meno 20 con il primo livello di supporto meno 45 al secondo e meno 65 dalla perdita del supporto non dai massimi perché dai massimi saremmo a un meno 88% quindi non buono questa struttura se TH va a perdere questa cosa allora solo dopo probabilmente questa fase qui anche per Ethereum dovremmo andare a ragionare se avrà la capacità di riprendersi tra le altre cose ragazzi il grafico Ethereum BTC un grafico di straordinaria importanza che ho mostrato nell'ultima live che ho fatto sul canale YouTube la trovate comunque ragazzi è un video molto importante perché quando andiamo ad analizzare il grafico Ethereum BTC si evince anche una zona di rischio notevole per il re delle criptovolute perché andando alla conclusione di questo video di quello che dice questo articolo che potrebbe essere una bear trap vi ho già indicato che la bear trap non mi piace in questa fase se la fa la fa ad agosto o insomma durante l'estate che brecca i 1700 per pinta e poi mi riparte a razzo sì perché chiude il ciclo annuale magari e poi riparte quindi ci può stare in quel caso che sia un falso break di un livello di supporto importantissimo come i 1700 dollari che è quello che vi sto mostrando ma se non lo fa in estate piena ragazzi allora non è una bear trap ma una continuazione del trend quindi io starei fortemente attento a questa cosa secondo discorso la spirale della morte se non va in porto questo merge in maniera consistente e da un po' di tempo che analizzo il grafico BTC contro Ethereum ed è un grafico molto delicato ragazzi perché questo grafico qui ha sancito come ho detto anche nella precedente live con buona probabilità un massimo storico in questo punto proprio nel touch della mia area di resistenza che vi avevo indicato praticamente più di un anno fa a 0.085 ora ragazzi l'atteggiamento è identico identico alla nostra vecchia luna che adesso non so nemmeno dov'è il grafico che ieri me l'hanno cancellato l'ho cancellato che si non lo so dov'è però se vedete insomma solitamente gli spuntoni o li chiamo così che sono poi quelle che in sostanza rappresentano un po' le formazioni di Anlaguaikov come atteggiamento di distribuzione sono pericolose ragazzi perché questa roba se si verifica in questo modo cioè se Ethereum non riesce proprio in questa fase a portarsi nuovamente in una fase di massimo quindi a superare gli 0.085 contro il BTC probabilmente va a chiudere tutta questa fase ciclica in maniera negativa questo significa che qualcosa non va quindi probabilmente questo merge che non andrà a verificarsi oppure una bear market consistente dell'ecrito insomma ragazzi questi grafici ci accompagneranno per i prossimi tre mesi come quello di Nasdaq che ha giunto a gennaio 2022 sulla mia piattaforma di TrendView avete visto anche l'impatto che ha avuto considerare Nasdaq100 poi dopo x mesi se ne sono accorti tutti e ne parlavano tutti questo nuovo grafico che mettiamo dentro il calderone perché è un faro per tutte le cripto se qui qualcosa va storto ragazzi se un grafico del genere si va a verificare che Ethereum BTC inizia a perdere forza relativa in maniera consistente scendendo sotto questo punto che potrei definire punto di non ritorno è vero che c'è la situazione ciclica classica perché ve la faccio vedere teoricamente sta facendo così e poi magari c'è il rimbalzino però ragazzi questo non è giugno 2022 questo è giugno 2023 questo significa che la questione si mette male io non credo che sia così sono ancora favorevole su Ethereum ma non vi nascondo che la mia situazione in termini di holding della Regione da Caritò è radicalmente ridotta radicalmente ridotta rispetto a prima per tanti motivi quindi quando io riduco l'holding su BTC lo riduco praticamente ormai quasi azzerandolo su Ethereum mi sono rimasti solo qualcosa che purtroppo ancora in farming su qualche progetto DeFi non che non cioè per me resta comunque una delle cripto più importanti da tradare nel 2022 se dovesse invertire salirò di nuovo sul carro ve lo dico proprio in maniera chiara ma oggi volevo anche rendervi partecipi del fatto che altro che Bertrap che è Bertrap probabilmente questo tipo di situazione è fortemente da attenzionare ancora di più ci indicherà la strada che potrebbero prendere altri protocolli cripto per esempio i layer di Ethereum se qualcosa non va sulla chain centrale che gestisce un po' tutti quelli che sono gli smart contract in maniera importante che cosa può succedere poi sulle altre immaginate un po' allora qui la configurazione classica è palese cioè non è palese si sta andando a delineare con un ciclo che ha fatto il suo massimo che sarebbe questo va bene se questo va giù a breccare questo livello di minimo in primis ragazzi e probabilmente abbiamo fatto un massimo storico di Ethereum in forza relativa contro Bitcoin e non la vedo per niente bene in una situazione del genere vuol dire che non avremo alt season nel 2023 neanche a sognarcela ragazzi quindi ci sarà un rifugio poi su BTC ma soprattutto bisognerebbe chiedersi che cosa potrebbe accadere allora Ethereum diventa nuovo grafico fondamentalmente importantissimo da andare a considerare è vero faremo la notizia se questo merge lo fanno magari non funziona magari non piace magari non si sa il problema è che la notizia ragazzi ormai l'avete capito penso arrivano sempre dopo quando i giochi sono fatti e a quel punto gli investitori i trader sono rimasti appesi a un filo quindi chi ha perso il treno ha perso il treno chi è rimasto sul treno e magari le cose vanno male ci rimane e va giù nel profondo rosso quindi le notizie sì per spiegare un fenomeno quando è avvenuto ma a noi interessa un po' essere anticipatori dei fenomeni ecco perché guardiamo i prezzi perché nei prezzi se qualcosa gira storto per tanti operatori del mercato e soprattutto magari chi c'è dietro che sta programmando magari queste cose sta se va non va se lo devono rimandare un altro anno e mezzo e il mercato la prende male perché ha dato fiducia al progetto e non arriva in tempi brevi allora insomma ci sono tante cose da andare a valutare tenete sotto controllo questo grafico questo grafico vi dà la risposta di quante cripto andarvi a mettere in portafoglio come altcoin intendo al di là di bitcoin al di là che trend is your friend e ormai lo sapete non andate contro trend va bene per oggi è tutto buon weekend e io vado a festeggiare perché perché è arrivato fino alla fine del video lo dico oggi è il mio compleanno e quindi vado a festeggiare ragazzi questa sera è il mio ubriaco a scimmia ciao